Nelle Marche è tornata la paura. La terra ha tremato più volte, in particolare nel nord della regione. La scossa più forte è stata di magnitudo 5.7 alle 7.07, seguita da un'altra di magnitudo 4 alle 7.12. Sono state localizzate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a largo della costa pesarese. Sono seguite una trentina di repliche di magnitudo maggiore di due e una decina di magnitudo maggiore di tre. Un usciame sismico durato fino alle 13.10 quando se ne è verificata un'altra di magnitudo 3.9. Il terremoto è stato avvertito in un'area molto vasta lungo la costa adriatica, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. La gente si è riversata in strada, i lampioni oscillavano e cadevano a terra a pezzi di intonaco e calcinacci, come successo alla stazione ferroviaria di Ancona. Sulla cittadorica si è levato in volo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte ma solo danni alle strutture. Danni significativi si sono registrati nella chiesa di Ronco San Baccio a Fano, chiusa per inagibilità anche la chiesa di Candelara. Altri disagi si sono verificati in diversi negozi e supermercati dove molti oggetti sono caduti dagli scaffali. È stato un risveglio, come ha sottolineato l'assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli, che ha distotterrato antiche paure ricordando il dolore di ferite ancora aperte. Questo terremoto ha proseguito, ha il volto sfigurato della Madonnina dei Cappuccini, uno dei simboli sacri più amati dai pesaresi. Dalla statua arrovinata nella parte posteriore è caduta l'aureola. Le prime violente scosse di terremoto hanno fatto tremare anche gli studi di Fano TV. È diventato virale il video del giornalista Massimo Foghetti che ha vissuto e dato in diretta la notizia durante occhio ai giornali, prima di lasciare la postazione e mettersi in sicurezza insieme al regista Riccardo Sora. Il kit del consumatore per ridare l'infa al centro. L'assessore tiene Lucarelli in carica la demoscopica per sondare abitudini e preferenze. Un'indagine, attenzione, attenzione a una scossa di terremoto. Si è verificato in questo momento una grossa scossa di terremoto in questo momento ha investito la città di Fano. Attenzione, cerchiamo di vedere che cosa è accaduto. Telefoniamo subito alle squadre che ci possono dare delle informazioni. È stata veramente una scossa molto molto grossa. Sì, in questo momento è calmato, però ci possono essere anche scosse di assestamento. Eccolo un'altra. Io vado via. Nel corso della mattinata abbiamo seguito anche in diretta l'evolversi degli eventi. Prima durante la ripresa della rassegna stampa e poi al Cocchi, il centro operativo comunale, subito attivato nella sede di via Borsellino a Fano. Siamo tutti, esattamente tutti i funzionari del Comune. Il Comune chiuso si sono trasferiti qui, ognuno per le proprie competenze, per le proprie funzioni. Quindi qui vengono prese quelle decisioni man mano che arrivano delle famiglie, delle scuole. Tutte le emergenze che arrivano vengono discusse al Cocchi e viene presa una decisione comune per poter agire e dare una risposta. Siamo noi come volontariato, siamo presenti sul territorio e collegati via radio soprattutto per dar risposta a quelle chiamate delle persone che hanno paura di rientrare in casa, più che altro per noi è dargli un conforto, più che una soluzione, perché non c'è una soluzione immediata, ma far sentire che in pratica il Comune e la protezione civile è vicino loro per qualsiasi cosa abbiano bisogno. Durante la diretta il Vice Sindaco Fanesi e gli Assessori Mascarinne e Brunori hanno fatto il punto e illustrato gli interventi sul territorio. Ringrazio peraltro tutto il personale scolastico, educativo, i dirigenti perché veramente con poche decine di minuti a disposizione abbiamo coordinato una scelta cautelativa che io ritengo assolutamente opportuna, come hanno fatto in tanti altri comuni, e cioè di non aprire le scuole e di non avviare l'attività didattica. Questo servirà nella giornata di oggi per le squadre dell'ufficio tecnico del Comune di Fano per realizzare, come in tanti altri edifici pubblici, lo ricordiamo, della città, una serie di interventi di controllo, di verifica, perché dobbiamo avere la certezza che gli edifici, in particolare gli edifici scolastici che sono tanti nella nostra città, quasi una cinquantina, non abbiano avuto lesioni o comunque danneggiamenti anche parziali. A Fano le scuole e gli uffici comunali che erogano servizi al pubblico, come le biblioteche, resteranno chiuse anche domani, giovedì 10 novembre, salvo revoca. Ci sono squadre, ormai una quindicina di squadre composta da dipendenti dei lavori pubblici e dell'urbanistica che girano la città a fare queste verifiche, sono chiusi anche i cimiteri, ecco per dire, se iniziate a pensare quanti sono gli edifici pubblici comunali in città, insomma iniziano ad essere tanti. Ci dobbiamo preparare al peggio, quindi abbiamo anche, come dire, stiamo verificando in particolare le palestre, quelle più moderne, quelle che potrebbero essere utilizzate anche in maniera provvisoria, ci auguriamo assolutamente in maniera provvisoria, per poter, come dire, ospitare e dare assistenza alla popolazione. Al momento, ecco, non ci sono segnalazioni di persone che si sono fatte male. Al di là della paura che comunque ha colpito stamattina molti nostri concittadini, alcuni dei quali sono andati anche al pronto soccorso, ecco per dire la paura che c'è stata. Per quanto riguarda invece i centri sociosanitari? Ne abbiamo due di nostra proprietà, uno è la Don Tonucci e l'altra invece il CTIL San Lazzaro. Per quanto riguarda la Don Tonucci ci hanno segnalato delle crepe e abbiamo già mandato una squadra. Su quelle private invece ci siamo accertati che anche lì ci sia appunto una situazione di tranquillità e ci hanno garantito che tutto è a posto, sotto controllo. È ripresa intorno a mezzogiorno invece la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, sospesa in via precauzionale a causa delle scosse di terremoto. Inoltre, per consentire le verifiche tecniche sugli edifici, oggi sono state sospese tutte le attività del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vassa 1, comprese le vaccinazioni. Gli utenti verranno ricontattati dall'azienda per prendere un nuovo appuntamento. Invece, nei tre stabilimenti di Fano, Pesore e Muraglia dell'azienda ospedaliera Ospedale Riuniti in Marche Nord, la direzione ha organizzato squadre di tecnici per controllare tutte le aree dei presidi, dando priorità alle aree deputate, all'emergenza e urgenza, fino ad ogni singola stanza di degenza. Dove le condizioni dei pazienti lo hanno permesso, le aree sono state evacuate, le persone sono state fatte convogliare in zone sicure, fino alla fine dei controlli. Non sono stati segnalati ed evidenziati danni importanti alle strutture, per cui gradualmente tutte le attività sono riprese nella loro piena funzionalità. Siamo pronti, eventualmente ci fosse bisogno di spostare qualcuno da qualche struttura. Sono le verifiche in corso nell'RSA. Se è necessario abbiamo già gli equipaggi pronti in emergenza.